non ci serve e inseriamo l'intervento azione ecco che cliccando su questo tasto entriamo in una scheda che si compone di varie pagine la prima pagina che si che noi vediamo è una pagina di informazioni è una scheda in cui vanno inserite informazioni quasi tutte obbligatorie in particolare il titolo io posso mettere contro e formazione dei docenti l'anno sicuramente il 2001 perché siamo ancora nel 2001 stiamo parlando di dicembre e quindi io posso mettere dicembre oppure posso mettere per esempio due data della formazione dicembre fino al 31 dicembre però possibilmente le scuole chiudano prima facciamo 23 dicembre ok e quindi posso o inserire il mese in generale in questo caso il sistema registrerà dal primo dicembre al 31 dicembre oppure posso mettere i giorni precisi dal 2 dicembre al 23 dicembre o non è possibile andare a cavallo dell'anno non è possibile segnare dal 23 dicembre al 30 gennaio perché la rendicontazione dell'ASL e la rendicontazione prevista per la regione è secondo l'anno solare e quindi noi dobbiamo chiudere la rendicontazione a dicembre e vedremo dopo se il progetto se l'intervento continua anche ovviamente perché per le scuole continua fino a giugno dell'anno successivo vedremo come si può fare come si può ovviare al problema dell'anno solare o anno scolastico intanto dopo aver inserito il periodo di tempo in cui l'azione viene messa in campo sul territorio dobbiamo mettere gli obiettivi specifici che ci interessano in questi casi quello che abbiamo appena inserito la formazione degli insegnanti e possiamo scegliere di dare questa che quest'azione vada a rispondere a due diversi obiettivi specifici in questo caso inserire nel catalogo dell'offerta educativa eccetera eccetera quindi io ho segnati tutti e due dopodiché per quanto riguarda il setting è possibile e lo facciamo indicare l'ambiente scolastico come vedete quando all'interno di una pagina in cui vanno inserite informazioni scegliendo da delle opzioni come questo la selezione avviene può avvenire soltanto quando c'è la selezione tonda per un solo oggetto per una sola opzione non si possono selezionare più setting questo è diverso rispetto al progetto perché il progetto la scheda il grande contenitore all'interno di prosa permette di mettere più setting perché può essere un progetto complesso un programma molto ampio che abbraccia più più setting che abbraccia più temi insomma è possibile per il progetto ma per l'intervento preferiamo ci sia una specificità molto precisa e quindi desideriamo che venga fatto venga inserito un solo setting nel caso ci siano azioni complesse messe in campo sul territorio nell'anno in corso preferiamo che siano differenziate le azioni in diversi setting quindi sempre è solo un set detto questo dobbiamo inserire i paesi le città i comuni in cui viene messo in campo questo intervento in questo caso posso concentrare per esempio nel distretto di cornie su una serie di comuni cornie e cornie stesso è una serie di sto mettendo un po caso magari per chi è abita in queste zone sembrano cose strane ma si possono selezionare i comuni in cui il questo intervento viene messo in campo e salvare alla fine quello che abbiamo inserito una volta che si decide di salvare l'intervento si apre e si apre a varie possibilità si apre a nuove informazioni da inserire come vedete ritorno all'inizio della scheda ora ci sono sette sette diverse pagine da con informazioni diverse da inserire che prima non c'erano questo modo di inserire l'intervento ci sembra progressivo e utile più semplice da che può funzionare da guida per l'operatore che deve caricare e quindi c'è una prima pagina obbligatoria con dati obbligatori e che viene richiesta all'operatore da riempire e poi tutte le altre informazioni divise in sette diverse piccole schede da 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 completare ecco che rimanendo in questa prima schermata vediamo che sotto i comuni qui sotto i comuni è comparso una nuovo un nuovo box che ci permette di selezionare una una le scuole in cui si è andato a svolgere questo intervento che è unplugged quindi viene fatto proprio nelle scuole ora come vedete ogni comune per esempio io prendo prendiamo un comune un po più grosso prendo cornie come vedete all'interno del comune è possibile distinguere varie opzioni per esempio le scuole pubbliche le scuole paritarie all'interno delle scuole pubbliche in nel comune di cornie ci sono due istituti presso comprensivi istituti complessi si complessi comprensivi e all'interno di questi istituti è possibile visualizzare le tipologie di scuola di plessi che fanno che sono afferenti a questo istituto ecco in questo caso vedete l'istituto 25 aprile a differenti plessi di scuole secondarie di secondo grado quindi scuole superiori e è possibile per esempio selezionarle tutte e quattro unplugged è nella scuola anche nella scuola secondaria di primo grado quindi selezioniamo questo stessa cosa per tutte le altre scuole in questo caso ozegna non alla scuola primaria l'ho messa un po' mettendo a caso giustamente oggi sono anche delle delle cose che non hanno senso ecco in questo caso primo grado e anche ad aie secondaria di primo grado perfetto seleziono una serie di scuole in base al mio intervento portato tutte le in tutte le scuole quindi questa informazione l'ho inserita quando inserisco informazioni all'interno di prosa è sempre come è sempre conveniente salvare tutto immediatamente quindi questo tasto salva i dati e prosegue è molto importante vi consiglio di usarlo spesso ecco che in questo caso per l'ennesima volta la pagina si è caricata e i dati sono stati salvati però attenzione perché un nuovo box ancora è comparso questo modo di far apparire gradualmente le opzioni da inserire è voluto è voluto proprio per non mettere davanti subito immediatamente tutte le cose tutti i campi da riempire in modo che l'operatore sia agevolato nella progressione dell'inserimento e abbia un percorso un po guidato almeno all'inizio quindi abbiamo questo box nuovo che mette in elenco tutte le scuole che noi abbiamo indicato ovviamente c'è la possibilità ancora di inserirne altre se vogliamo e di salvare e di quindi la pagina si ricaricherà di nuovo con nuove scuole in elenco e questo dovrebbe essere abbastanza intuitivo e a fianco a ogni scuola c'è la possibilità di inserire le classi coinvolte in questo in questa particolare azione allora attenzione a riempire questo campo noi vi suggeriamo di riempire sempre tutta la banca dati tutte le opzioni possibili perché la completezza di un progetto ne determina la qualità quindi sempre 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 compilare tutto ciò che prosa propone e quindi io vi consiglio di davvero mettervi a completare tutto in questo caso però bisogna fare una riflessione in più e bisogna fare la riflessione che noi stiamo facendo formazione agli insegnanti quindi vogliamo davvero inserire per esempio la terza media di queste sette di queste 1 2 3 4 5 6 7 8 scuole indicate quindi vogliamo andare a castellamonte e vediamo magari ci sono la terza c la terza la terza b la terza c vogliamo mettere tre classi raggiunte facciamolo ma sappiamo che noi ci siamo rivolti agli insegnanti questi insegnanti hanno poi un rimando in queste tre classi e quindi noi vogliamo segnare le classi come destinatari raggiunti oppure mettiamo zero perché alla fine sono gli insegnanti e poi se andiamo a fare altre interventi nelle classi inseriremo negli altri interventi le classi raggiunte non lo so questo sta alla vostra sensibilità questo sta alla vostra intenzione come voi volete caricare sulla banca dati il vostro il vostro intervento sta di fatto che io in questo momento non inserisco nessuna classe perché la docenza è stata fatta per scusate la formazione è stata fatta per i docenti ma questo non vuol dire che voi non li dobbiate mai inserire eh io ho fatto tutto questo giro per dirvi in questo momento io credo che sia meglio non inserirlo perché facendo formazione agli insegnanti non mi sembra il caso di inserire le classi ma dipende dal come è strutturata il vostro intervento quindi salvo i dati proseguo fatelo sempre in modo da non perdere mai nessuna informazione andiamo nella seconda scheda molto semplice siamo andati in sei scuole probabilmente abbiamo in otto scuole abbiamo fatto almeno otto edizioni di dello stesso della stessa formazione facciamo caso che siamo andati la formazione prenda due due episodi quindi sedici edizioni quindi l'edizione cos'è? L'edizione è quante volte lo stesso formato per esempio in questo caso lo stessa format di formazione stessa lezione che magari è spalmata in due episodi viene fatta tal quale in più luoghi in questo caso la formazione di unplugged per gli docenti è un format preciso che dura anche tre, quattro puntate io qui l'ho messa da due per far più semplice ma viene ripetuta ovviamente nelle scuole un tot di volte e quindi io in questo caso inserisco sedici otto scuole, due episodi per scuola sedici sessioni, quindi sedici edizioni ma ogni singola edizione quanto dura? una mattinata? mettiamo dalle nove alle tredici? mettiamo quattro ore quindi la singola ora che serve alla formazione no scusate, otto sì se mettiamo otto dobbiamo mettere otto di qua no facciamo quattro, ok mi serve una mi serve una quattro ore di formazione per fare la mia il mio intervento l'ho ripetuto sedici volte oppure potete inserire siccome è un intervento da due episodi otto ore e potete inserirlo per otto otto scuole diverse quindi anche in questo caso decidete voi ma potete vedere che la somma poi se facciamo otto per otto è santaquattro quattro per sedici è santaquattro quindi il numero poi alla fine è uguale tuttavia il concetto è ore di intervento il singolo intervento quante ore occupa edizione quante volte ripeto lo stesso intervento a seconda del luogo e del tempo quindi queste sono le due informazioni molto precise che servono anche poi per dare una quantità alle ore di formazioni e alcuni indicatori necessitano di queste informazioni e a volte anche quando facciamo le nostre statistiche sul mondo della scuola per valutare l'impegno anche dei progetti e degli interventi sul territorio quindi questi sono dati molto importanti non sono obbligatori ma noi siamo molto li stimoliamo molto noi spingiamo molto affinché questi campi siano completi e fatti bene qui a destra infine è possibile inserire varie infiniti carichi di lavoro a seconda dei professionisti coinvolti in questo caso posso inserire un educatore professionale per esempio di solito sono 4-5 facciamo 5 educatori professionali che sono andati a fare questi interventi nelle scuole per i docenti e attenzione alle ore di lavoro quante ore sono necessitate a questi educatori per fare questi interventi sicuramente 64 ore perché sono dovuti andare effettivamente nelle scuole e fare questo e questi tipi di interventi quindi il loro carico di lavoro minimo è 64 chiaro attenzione perché però perché se si parla di docenza l'impegno non è soltanto quello delle ore di formazione quando si è in presenza probabilmente c'è una preparazione probabilmente ci sono delle ore aggiuntive di back office di ore aggiuntive fatte pre o post la formazione quindi inseriamo quelle reali mettiamo 100 io ho fatto in realtà forse sarebbe meglio raddoppiarle ma va bene avete capito e qui è possibile inserire se c'è anche del lavoro amministrativo è possibile inserire anche il lavoro amministrativo fino a quanto desiderate in modo da avere chiaro e da anche per chi legge il progetto avere chiara l'idea di del carico di lavoro che è stato necessario per metterlo in campo salviamo sempre vi ricordo e andiamo avanti siamo arrivati al target e setting in questo caso il setting l'avevamo già selezionato l'ambiente scolastico in questo caso sono i docenti che tra gli operatori scolastici hanno una precisa preciso eh da biffare da selezionare in questo in alcuni casi è possibile coinvolgere il dirigente scolastico ma magari questo non è il caso e infine le persone raggiunte complessivamente da tutte le edizioni questo è interessante è un dato molto interessante perché ci permette di valutare la qualità dei dati inseriti è una specie di formazione di controllo quindi anche in questo caso vi chiediamo davvero di compilarla come si deve allora otto scuole mettiamo che ci sono stati sette otto diciamo che ci sono stati sette docenti per scuola anche otto facciamo quindi sessantaquattro persone raggiunte magari i numeri non sono molto quadrati sono molto centrati ma stiamo facendo un esempio così di fantasia quindi salvo anche in questo caso e andiamo avanti questa è una parte estremamente importante non sono formazioni obbligatorie ma questa parte dovete compilarla in questa scheda noi diamo un'etichetta all'intervento che noi stiamo facendo un'etichetta di metodo cos'è che veramente stiamo facendo con questa azione abbiamo varie opzioni quindi vedete azioni di advocacy quindi nel particolare atti istituzionali formali coordinamenti tavoli interistituzionali riunioni linee guida interventi sul contesto quindi leggi regolamenti modifiche ambientali supporto sociale poi studio di ricerca informazione educazione vedete ci sono grandi macro gruppi e la possibilità di selezionare all'interno dei macro gruppi diverse diverse possibilità diverse strategie diversi metodi in questo caso sicuramente parliamo di educazione parliamo di una docenza e tuttavia sappiamo che non è una lezione frontale è più una peer education è più un programma educativo è più un counseling assistenza insomma potete scegliere diverse diverse fare diverse opzioni chiaramente non è possibile selezionare educazione e tutte queste queste sotto insiemi e per esempio una un metodo di di interventi sul contesto se io salvo questa pagina così com'è vedete che rimangono soltanto quelli in cui c'è la selezione della macro area e al suo interno la selezione di anche più diversi metodi di intervento quindi questa è una parte molto importante che viene calcolata dagli indicatori del piano regionale di prevenzione ci sono degli indicatori per esempio che misurano quante ore di lezione o quante quante formazioni viene fatta sul counseling in ospedale per esempio ai medici e ai operatori sanitari e il nostro indicatore prosa richiede che ci sia selezionata questa opzione counseling ci sono anche per esempio da inserire i gruppi di cammino per altri progetti non scolastici i gruppi di cammino l'attività fisica adattata il nordic walking il feet walking quindi è importante selezionare queste o questa opzione per il calcolo dei gruppi di cammino messi in campo dall'ASI quindi questo selezionare questi metodi queste azioni è molto importante per la rendicontazione non dimentichiamocelo mai e compiliamo certo se noi compiliamo tutto perfettamente non ci sarà mai nessun problema per la rendicontazione e per gli indicatori però se devo dire dare delle priorità questa è veramente una priorità per noi andiamo avanti in questo in questa quinta scheda c'è la possibilità di inserire note e descrizione chiaramente l'intervento qui può essere descritto in maniera più testuale ampia in modo da far comprendere esattamente a chi legge che cosa si è andato a fare ed è importante compilare questo campo proprio per la qualità dell'intervento per la qualità del progetto in generale affinché sia leggibile e possa essere visto anche da esterni che vogliono mettere in campo lo stesso per un intervento e infine note aggiuntive dove è possibile inserire tutte le informazioni che riteniamo importanti e che prosa non vi ha chiesto per esempio delle informazioni in più dei dettagli in più insomma tutto ciò che è possibile aggiungere che è possibile dire rispetto all'intervento attenzione perché in questo box abbiamo suggerito anche a volte di inserire degli elementi non presenti nel database di prosa per esempio ci sono delle scuole private ci sono delle scuole che non compaiono nel database delle scuole che noi utilizziamo cioè scuole in chiaro il database del ministero e a volte però vengono fatti degli interventi anche nelle scuole private anche nelle scuole che non compaiono su prosa ecco che questo è il luogo della descrizione nelle note aggiuntive scusate nelle note aggiuntive è il luogo dove va inserito tutto quello che prosa non registra quindi è possibile inserire anche qui le scuole abbiamo fatto questo intervento anche nella scuola tal d'italia eccetera eccetera in modo che sia tutto registrato e che nulla si perde di quello che gli operatori hanno messo in campo io qui metto soltanto pallini e salviamo ricordatevi sempre ogni passaggio vi conviene schiacciare il tasto salva i dati e prosegue infine documentazione qui è possibile salvare degli allegati è possibile sicuramente è possibile inserire un file schiettarlo materiale didattico descriverlo salvare i propri dati e proseguire ed ecco che non c'è scusate per l'avviso e non c'è nessun problema potete inserire tutti gli allegati che volete è possibile ovviamente inserirne anche dei link esempio altro sito di supporto per i materiali ad esempio salvo e proseguo attenzione perché anche questa scheda è molto importante in quanto anche alcuni indicatori sono si fanno riferimento alla presenza o meno di allegati per esempio l'allegato per esempio in passato abbiamo richiesto per i gruppi di cammino un allegato etichettato come vedete strumento di analisi e valutazione i gruppi di cammino dovevano essere organizzati ed avere una valutazione e quindi l'indicatore andava a contare la presenza di un allegato etichettato come valutazione e quindi se non c'era questo allegato e questa etichettatura precisa l'indicatore non veniva completato quindi ancora una volta vi invito a indicare bene tutto è a inserire gli allegati qui in questo posto possono essere inseriti allegati materiale di comunicazione video link a video che avete realizzato per l'intervento tutto quello che è necessario sia per la qualità per che il progetto debba essere pubblicato con una certa qualità quindi con una serie di informazioni ma sia anche perché molto spesso ci sono degli indicatori che vanno a controllare anche la presenza o meno di allegati infine arriviamo alla parte del PRP e quindi la possibilità di associare questa diretta azione fatta su campo con una precisa azione richiesta dall'attuale piano regionale di prevenzione in questo caso scuola in questo caso possiamo fare entrambi insomma possiamo anche mettere tutti e tre se ci piace e il nostro intervento è stato finalmente caricato attenzione perché siamo a dicembre come abbiamo detto questa formazione finora è andata in otto scuole e ha raggiunto sessantaquattro docenti ma la stessa identica formazione presto nell'anno nuovo nell'anno scolastico gennaio 2022 gennaio a giugno la stesso intervento andrà a essere sviluppato in altre scuole ma lo stesso intervento allora cosa dobbiamo fare dobbiamo prendere lo stesso intervento e duplicarlo vedete questo questo tasto duplica interventazione io clicco e che cosa e che cosa vedo qua vedo che cosa è possibile copiare nel nuovo intervento che sto creando per esempio gli obiettivi da raggiungere i carichi di lavoro la documentazione allegata non i comuni e le scuole ma volendo anche i comuni e le scuole se vi serve se l'intervento si presta a questo se vi importa che ci siano di nuovo tutte le scuole e i comuni che avete inserito io confermo la duplicazione e voilà abbiamo tutto l'intervento di nuovo messo in campo ovviamente dobbiamo cambiare la la dicitura qua in questo caso non abbiamo ancora il 2022 perché non siamo ancora fisicamente nel 2022 bisogna aspettare che l'anno l'anno si l'anno ci sia però arrivavano fino al 20 23 noi possiamo partire dal 24 dicembre e immaginare che si possa partire dal 2022 e segnare nuove scuole andremo in altre scuole a fare lo stesso intervento e sto mettendo a caso perdonatemi salvo i dati e proseguo in questo caso ecco tutti espando direttamente la struttura di tutte le scuole in modo da avere ben chiaro quali sono le secondarie di primo grado secondarie di primo grado 2 secondarie di primo grado 3 secondarie di secondo grado va bene le mettiamo anche tutte secondarie di primo grado paritarie le mettiamo secondarie e sono molte secondarie di primo grado siamo a posto salviamo i dati e di nuovo vedete come prima abbiamo una serie di di scuole in elenco quindi se andiamo avanti vedremo che per esempio la durata dei carichi è la stessa e si può cambiare ovviamente potete modificarla insegnanti ambiente scolastico ci sono gli elementi già selezionati avete già l'intervento precompilato qui avete la stessa descrizione le stesse note aggiuntive io addirittura ho messo la stessa documentazione e infine c'è da però ogni volta e questo non è possibile associarlo perché questo desideriamo che voi siate precisi per vogliamo che lo compiliate sempre voi quindi non sarà mai automatico perché desideriamo che la compilazione degli indicatori sia fatta non in maniera automatica ma che voi abbiate coscienza che è stata ad alimentare l'indicatore del piano regionale di prevenzione e quindi in questo caso va tutto bene soltanto credo che abbia inserito ecco avete visto incontro e formazione dei dicenti duplicato 2021 ha inserito il titolo con questa con questa parentesi ok un'altra cosa questo tasto la tasto della pubblicazione avete inserito in unplugged che è un progetto ormai validato sicuramente pubblicato anche per tutti gli utenti del web su prosa quindi tutti lo possono vedere voi avete inserito un nuovo intervento che potrebbe anche non essere completo potrebbe anche non essere adatto e quindi non viene pubblicato il nuovo intervento inserito non viene pubblicato deve essere pubblicato probabilmente dal responsabile referente dell'asla di prosa che deve in questo caso pubblicare prima il progetto e gli obiettivi perché io ovviamente avevo creato un progetto Silvano e non l'ho pubblicato in questi pochi secondi e pubblico un progetto un po' fasullo lo tolgo subito e poi ovviamente tutti gli interventi che che vengono che sono stati inseriti è possibile pubblicarli o spubblicarli e questo tasto è possibile questo potere ovviamente è dato al referente di ASS torno alla scheda progetto vediamo gli interventi che ho inserito come vedete ce ne erano già inseriti due ora ne ho inseriti altri due e questo è quello che serve sapere su per quanto riguarda gli interventi su grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.